Allora, al consigliere Antonio Caponnetto del Ministero dell'Ambiente chiediamo invece, dopo aver sentito i consigli degli esperti e dei vertici della Commissione europea, del livello tecnico della Commissione europea, chiediamo al livello tecnico del nostro governo, quindi al consigliere Caponnetto del Ministero dell'Ambiente, come il nostro Paese si sta attrezzando in relazione ai temi affrontati. L'Italia presenta ancora delle situazioni in chiaro scuro. Negli ultimi dieci anni, nel campo della raccolta differenziata e dell'efficienza dei sistemi di smaltimento e di riciclo dei rifiuti, sono stati fatti dei grandi passi avanti e c'è un incremento importante delle performance e delle percentuali. Ci sono alcuni dati molto soddisfacenti, quasi pienamente soddisfacenti però in alcune aree del Paese e ci sono invece dati e performance ancora troppo basse, troppo al di sotto della soglia minima in altre parti del Paese. Bisogna lavorare per portare tutti al medesimo standard. C'è una legge, la legge 132, che ha previsto dei livelli standard appunto per le prestazioni ambientali da costruire in modo concertato tra lo Stato e le regioni, che sicuramente è utile in questo senso. Come Ministero stiamo lavorando anzitutto nella direzione della prevenzione e della repressione di tutte le violazioni e le irregolarità nel campo dello smaltimento, della raccolta dei rifiuti. Dall'altra parte abbiamo lavorato molto in questi anni anche sul piano educativo della comunicazione per favorire l'economia circolare, quindi soprattutto produrre meno rifiuti. Ecco, a questo proposito le chiedo consigliere, una domanda forse un po' scontata, ma bisogna puntare di più sulla formazione, iniziative come queste possono darci una mano, possono dare una mano alle regioni italiane? Sì, certamente. La formazione e la sensibilizzazione anzitutto dei cittadini e anche però degli amministratori è una questione chiave, essenziale. Uno degli elementi che è emerso con chiarezza nella discussione anche di stamattina, nell'esperienza che sono state portate dalle varie regioni, è che anche che i cittadini si adeguano più facilmente, più spontaneamente all'esigenza della raccolta differenziata, quanto più percepiscono, anche sul piano della tariffa, di quanto pagano al Comune per smaltire i rifiuti, più percepiscono questo, più facilmente sono invogliati ad assumere comportamenti virtuosi nel campo della raccolta.